festa dei lavoratori al lavoro per la pace questo infatti il messaggio scelto dalle tre grandi organizzazioni sindacali cgl cis le will per le celebrazioni di oggi festa dei lavoratori che quest'anno tra l'altro coincide anche con la caduta di molte restrizioni legate alla pandemia l'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio molti comparti del lavoro che oggi tremano anche per la crisi internazionale legata alla guerra in ucraina in abruzzo sono almeno 40 le vertenze aperte alle quali si unisce la sofferenza di tante piccole aziende in difficoltà e mentre cresce il ricorso alla cassa integrazione si guarda con ottimismo agli investimenti del pnrr la situazione complicata perché si rischia un lento impoverimento della regione con lavoratori che non riescono ad arrivare a fine mese e imprese sempre meno capaci di attrarre dichiara il segretario regionale della cgl carmine ranieri secondo cui l'abruzzo rischia la desertificazione senza invertire la rotta ma si guarda anche alla sfida della transizione ecologica che rivoluzionerà la produzione e che crea occupazione non solo verso le grandi aziende ma anche verso l'indotto secondo giovanni notaro segretario regionale della cis per il quale bisogna avere la capacità di riconvertire la produzione tra le grandi sfide anche quella della transizione ecologica e quella della digitalizzazione bisognerà gestire al meglio i fondi in arrivo con il pnrr fondamentali per colmare il gap che c'è già tra l'abruzzo e le altre regioni aggiunge michele lombardo segretario regionale della will che si appella alla regione perché garantisca un sostegno reale al territorio in questo doppio momento di crisi pandemica e guerra grazie a tutti grazie a tutti